Benissimo, benvenuti vediamo questa sera il quiz food che ho fatto vedere a lezione ci concentriamo sulla versione per imprudence che funziona comunque anche su Firestorm vedete, qui sono nel mio negozietto, la versione per imprudence la riconoscete perché ha le scritte rosse, come faccio per ottenerla? vado col tasto destro altro e ne prendo una copia facendo questa operazione nell'inventory negli elementi recenti vedete che ottengo, c'è almeno un elemento sal quiz hood ora questo hood lo posso indossare e lo indosso attaccandomelo come hood e lo mettiamo tendenzialmente per esempio in cima top, vedete che compare qua e mi risponde già immediatamente faccio edit come abbiamo visto l'elezione precedente e mi dispongo lo hood in una posizione opportuna vedete che mi parla mi dice benvenuto e mi fa un po' di insomma mi dice qualcosina poi posso fare delle cose nel senso che posso andare in modalità explore quando sono in modalità explore è possibile cliccare su degli oggetti opportuni che abbiano uno script dentro in questo caso io ho fatto un cubetto verde in qui dentro gli ho messo allora qui la cosa importante è la descrizione e soprattutto il fatto che dentro c'è uno script che si chiama explore molto semplice questo qua che dialoga con il nostro hood quindi quando sono in modalità explore se io clicco su determinati oggetti cliccando li questi mi parlano mi scrivono a video le loro cose ma soprattutto me lo scrivono dentro lo hood quindi io qui ho praticamente un'informativa sulle tartarughe no? qui volendo se io clicco su comunica chat locale oppure anche ctrl h quindi se io faccio ctrl h mi viene fuori questa che è esattamente quello che c'era qua in cui ho eventualmente anche dei link come questi e posso vedermi delle foto ora la parte interessante di questo quiz hood è che quindi mi permette di esplorare toccando in giro delle cose ma mi permette anche di fare dei quiz ora per esempio questo è un quiz con una domanda dentro che mi fa una serie di domande adesso in questo caso ho fatto un esempio molto semplice se io faccio clic lui vi ha detto che mi fa una domanda tal dettaglio e io devo rispondere la risposta può essere A B oppure anche altre in questo caso soltanto A e B se la domanda io penso che la risposta sia A allora lui mi dice corretto e poi vado avanti a questo punto se il quiz è finito mi dice il numero di domande del quiz era 1 e quindi ho risposto al 100% delle domande se io riclicco in modalità quiz e allora qui facciamo chat locale così per tolgerla un attimo e se io rispondo invece alla risposta sbagliata B mi dice risposta sbagliata e vedete che avevo risposto con un punteggio del 0% poi c'è ancora una linguetta help insomma che fa queste cose qua i quiz possono essere anche dei quiz del tipo toccami l'oggetto che risponde a queste definizioni ad esempio se vuol dire toccami la tartaruga e in quel caso lì la risposta corretta è toccare la tartaruga adesso proveremo anche a vederlo meglio però ecco la cosa fondamentale di questo quiz hood è che si appoggia a un sito web quindi cioè tutte le informazioni che vediamo le notizie la scheda sulle tartarughe questa non sono non sono segnate dentro gli oggetti ma sono letti da un sito esterno in particolare sono letti da un sito che si trova per esempio in questo caso qua vps ecco qui c'è l'indirizzo completo quiz hood e qui la prima volta che entri vi chiede di autenticarvi quindi noi ci autentichiamo con in questo caso Edmondo e mi permette di configurare tutte le pagine che sono poi quelle pagine allora qui nelle pagine ci sono le pagine di presentazione quindi home e la pagina benvenuti ecco la cosa interessante è che qui posso modificare questa pagina mettendo cambiando delle cose per esempio metto una riga di trattini qua e poi posso fare il salva e a questo punto l'oggetto in word dove aspetta qua quindi se io torno a home vedete che mi sono comparsi i trattini sotto questa è la magia della definizione appunto delle pagine che faccio vedere ma anche quando clicco in explore mode se clicco sulle tartarughe posso anche modificare qui dal sito web come faccio vado sulla corrispondente pagina delle tartarughe explore 1 è la stessa cosa che abbiamo messo nella descrizione del mio oggetto qui explore 1 e dal sito posso andare a prendere explore 1 e cambiargli una descrizione quindi qui invece di dirgli tutta questa cosa qua posso anche cambiare ad esempio qui dove c'è scritto esopo gli metto tanto per vedere modificato salviamo e se noi andiamo qua e clicchiamo sul nostro oggetto verde vedete che abbiamo la modificato qua quindi è tutto in tempo reale il quiz abbiamo visto si può essere impostato anche dalla pagina ah no vediamo un attimo come fare per faremo tale che un oggetto cambi e vada da un'altra parte per esempio c'è un explore 2 oppure aggiungiamo una nuova pagina facciamo una pagina che parla invece di parlare torniamo nelle pagine abbiamo detto che nel nome dobbiamo mettere la sigla quindi invece di tartarughe possiamo parlare di pesci e poi il titolo i pesci e quindi qui possiamo mettere documentazione sui pesci quindi varie cose sui pesci salviamo quindi abbiamo finalmente una pagina che si chiama pesci quindi se noi andiamo nel nostro qui e in uno degli oggetti duplichiamo questo questo cubo supponiamo avere fatto un altro cubo dove ci sono i pesci e quindi mettiamo nella descrizione pesci a questo punto cliccando qua abbiamo vedete le cose che hanno attinenza con i pesci se invece vogliamo fare un quiz in più dobbiamo seguire questa procedura sempre del sito andiamo nella parte quiz ok facciamo aggiungiamo un nuovo quiz ecco questo quiz diciamo che il quiz diciamo quiz quiz tipo 1 per il momento lasciamo perdere il metodo del punteggio valutazione del punteggio qui dice che prende l'ultimo punteggio altrimenti si può fare che prenda la media il migliore il peggiore eccetera e poi si salva un quiz di tipo 1 in cui a questo punto possiamo fargli o domande multiple oppure domande di esplorazione per esempio domande di esplorazione vuol dire indicami i pesci mentre qua possiamo fargli domande sull'ambiente quindi qua possiamo fare una domanda in cui gli diciamo testo chi respira sott'acqua ok e poi multiple choice salviamo e qui abbiamo delle risposte vedete chi respira sott'acqua gli facciamo ad answer e gli mettiamo una prima risposta i pesci che è giusto perché respirano sott'acqua e poi una risposta B dove gli mettiamo invece le tartarughe e qui gli mettiamo per dire 0 adesso credo che le tartarughe non respirino sott'acqua ma questo non direte voi ok quindi questa è una domanda quindi in cui abbiamo fatto abbiamo fatto quindi questa prima domanda quindi se ne andiamo sul quiz il quiz oppi si possono mettere anche altre risposte ad esempio C ah no qui si possono editare le varie le varie risposte poi si possono aggiungere anche altre risposte quindi C diciamo che ne so gli uccelli risposta ovviamente 0 e poi qua si possono mettere i punteggi perché potrebbero anche essere le risposte quasi corrette ok quando si fa edit question quindi ci sono le varie risposte eccetera il quiz il primo quiz che abbiamo fatto questo ok sempre il quiz di tipo 1 aveva un metodo una domanda risposte multiple e poi possiamo anche fargli una domanda di esplorazione e il testo è indicami i pesci peso 1 type explore save ok allora la risposta dovrebbe essere il dunque short name questa non l'ho ancora provata ah ok short name deve indicare l'oggetto individuale che lo studente deve cliccare all'interno del mondo non dovete necessariamente mettere delle risposte sbagliate il sistema assumerà che la risposta sia sbagliata se non è in questa lista ad esempio qua la short name abbiamo detto pesci pesci per indicarmi pesci quindi il testo è adesso qui non so se si possa mettere qualcosa oppure no proviamo a mettere save qua ok quindi questa è la domanda e il quiz corrispondente quindi se noi adesso andiamo a vedere sui quiz i quiz vedete che abbiamo messo un nuovo quiz che si chiama testing quiz e vedete che c'è la lucina che è diventata gialla quindi il test corrente è quello che ha la lucina accesa quindi il vediamo un po' qual era il testing quiz oppure questo quiz tipo 1 vediamo un po' se era il quiz tipo 1 ah no qui fa vedere tutti quelli che hanno risposto i quiz quindi non era questo testing quiz vediamo se è questo questo vede i risultati questa è la modifica testing quiz allora la domanda sarà il quiz numero 2 niente questo sarà un altro test un altro ma facciamo un attimino un altro quiz così lo riconosciamo quindi facciamo il quiz di tipo esplorativo quindi esplorativo video save ok poi facciamo una domanda risposta multipla quindi chi domanda e poi mettiamo due risposte mettiamo risposta A e mettiamo anche una risposta B ok quiz esplorativo video era questo e poi andiamo a vedere l'esplorativo video che aveva quindi una domanda questa gli mettiamo anche una domanda esplorativa ah forse questo andava in in aggiunta vediamo test indica i pesci eccolo e gli mettiamo aggiungi risposta pesci pesci salva quindi se qui andiamo ah ecco perfetto il quiz è composto da due domande una che è una domanda vera e propria e poi una che indica i pesci ok quindi a questo punto questo dovrebbe esserci se noi andiamo nei quiz vedete che c'è esplorativo video e lo mettiamo lo accendiamo quindi accendiamo vuol dire che effettivamente è il quiz attivo nella sim andiamo quindi qui e andiamo nel quiz e vedete che ci sono due domande il nome del quiz è esplorativo video e se io clicco su questo quiz quello che ottengo è la prima domanda vabbè adesso A B poteva essere chi respira sott'acqua eccetera diciamo A che è corretta e poi andiamo avanti dice indica i pesci poi answer by clicking a feature in un environment qui possiamo anche tradurlo magari adesso lo script che voi vi alleggo lo traduco anche in italiano questo pezzo comunque vuol dire che se io clicco qui dove erano le tartarughe è sbagliato no? e infatti lui dice sbagliato se io invece quindi così ho fatto il 50% di risposte giuste e se io riclicco posso ripetere diciamo il test e a questo punto alla domanda indicami i pesci che sono diventati questi che ricordo che questi hanno nella descrizione pesci quindi nella descrizione pesci vedete che è corretto e quindi ottenuto il 100% se io vado dal sito web andando a vedere i risultati di questo video qui si vedrà che qui ci sono tutte le persone che hanno fatto questo quiz esplorativo video qui magari ci deve essere un piccolo difetto nel programma perché dovrebbe far vedere quanto cioè i vari i vari i vari risultati magari cercano poi di correggerlo nella versione definitiva il video su cioè lo script sul sito web cosa dire ancora allora qui sono tutti gli utenti che sono collegati con l'avatar che si possono vedere i risultati quindi per dire questo ah sì quindi si vede qua i risultati delle persone quindi forse il sito era buono bisogna usarlo in questo modo cioè bisogna prendere le varie persone qua quindi i vari avatar e poi qui si può chiedere si può chiedere i risultati della persona sui vari quiz e quindi vedere i suoi risultati no questo allora la cosa importante e interessante di questo quiz hood allora questo quiz hood avete visto che sono andato su un sito web ma cos'è che collega internamente il mio hood con quel sito web semplice nello script quiz hood vedete che all'interno ci sono varie informazioni di copyright perché è uno script che ho preso da un sito web ci sono le persone che hanno fatto e in più c'è a un certo punto una riga 33 c'è scritto un indirizzo questo indirizzo è dove è stato montato diciamo il database che gestisce questo 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 quiz e poi in più c'è anche una password nel senso non tutti quelli che si collegano qui possono entrare devono anche specificare una password di collegamento allora su questo indirizzo è stato installato un programmino php un database ma il sql che risponde appunto a questo script di open sim nel momento in cui trovate qualcuno o siete in grado voi di fare l'installazione di questo pacchettino di programmi allora riuscite a fare dialogare il tutto i sorgenti da installare sono riferiti allora innanzitutto qui voglio dirvi allora questo qui è l'indirizzo quizwood.avid insight co uk e da dove è stato preso questo quiz che però è stato leggermente modificato allora questo io l'ho modificato appunto per farlo funzionare con imprudence in questa modalità scrivendo praticamente qua perché la versione originale usava i multimedia della land e i multimedia della land su edmond e in generale su open sim non sono molto affidabili il software che ho fatto la versione che ho fatto è l'ho poi caricata su jit hub quindi voi potete anche scaricarvi qui c'è proprio questo indirizzo in cui ho messo una versione diciamo leggermente modificata questa ma poi ho messo la versione che vedete topic no html qui praticamente abbiamo la versione di questo script che in pratica usa dei programmini per generare del testo normale e non dell'html in realtà per chi di voi usa imprudence è possibile per chi di voi usa firestorm scusate è possibile usare una variante adesso qui usciamo un attimo da questo e entriamo con firestorm vi faccio vedere come lo stesso quiz cioè vabbè lo stesso quiz per imprudence può essere usato anche su firestorm magari ve lo facciamo vedere velocemente quindi entro con firestorm e poi cerchere vediamo un attimo vorrei trovarmi lo stesso hood indossato un po' di pazienza ok vedete che qui ho sempre il mio hood e il mio hood funziona cioè non vabbè qui tra l'altro c'è un piccolo problema di texture ma comunque insomma se ci siamo qui c'era la parte di esplorazione e qui c'era l'esplorazione abbiamo detto che cliccando compare tartarughe e qui c'è la parte di quiz in cui c'erano le questioni cliccando c'era A e poi cliccando su i pesci che sono queste ah no devo fare indica i pesci eccolo qua è quindi corretto quindi vedete questo hood funziona tranquillamente in realtà stacchiamo questo hood se ho firestorm posso anche provare a prendere questa versione per firestorm quindi questo tasto destro avanti prendi copia e la versione per firestorm quindi prendiamo quiz hood firestorm questa la indossiamo attacca l'hood in alto modifica ecco vedete che faccio il trucco per poterlo mettere ok allora qui quello che succede è che in questo caso mi collego a un altro sito web vedete che adesso sta parlando in inglese perché lo script è collegato a un altro sito quindi qui nel e gli script tra l'altro sono leggermente diversi qui ce ne sono solo due quindi quiz hood vedete che qui punta in questo caso S04 Craft World e in questa versione è stata installata la versione per firestorm che vedete che mi proietta praticamente tipo pagina web quindi io posso si vede anche un po' meglio forse per certi versi se vado in modalità esplorazione vedete che siamo in modalità esplorazione quindi se io clicco sul mia tartaruga ah vabbè adesso qui non ci sono le tartarughe perché qui c'era explore 1 ma il senso era che e quindi questo è un altro sito magari andiamo sull'altro sito che vi ho detto che vogliamo vedere facciamo un attimo di di lavoro nel senso che prendiamo il nostro sito che è questo che è un altro ci andiamo sopra poi mi sembra di aver visto che c'erano dei piccoli problemi sui quiz nella versione per di base qui la parola chiave è sempre ed mondo in questo caso ok allora qui abbiamo le nostre paginette qui abbiamo qui abbiamo anche la tartaruga quindi qui per vederlo leggermente meglio possiamo qui questo lo possiamo chiamare dunque ctrl d tartaruga ok quindi a questo punto se io lo clicco mi comparirà ecco le tartarughe che erano descrizione che sono scritte qua e qui possiamo aggiungere invece i pesci eccolo qua i pesci e nei pesci facciamo qua add new page nome nome pesci titolo i pesci ecco i pesci no abbiamo visto qui tra l'altro si possono mettere delle immaginine che devono essere scaricate sul sito sul sito ce ne sono tre volendo se ne possono scaricare qualcuno in più ecco i pesci quindi salviamo quindi a questo punto se noi clicchiamo su quest'altro cubetto che rappresenta i pesci dovrebbero arrivarmi dal sito vedete i pesci ecco i pesci ora proviamo a vedere se riusciamo a far funzionare i quiz quindi andiamo su i quiz e aggiungiamo un nuovo quiz il quiz facciamo quiz del video perché è il video che stiamo facendo e proviamo a cominciare a fare una new multiple choice text dunque chi respira sott'acqua e nelle risposte gli mettiamo pesci valore 1 ok quindi qui c'è già un quiz con chi respira sott'acqua vabbè mettiamo anche tartarughe 0 salva e poi ci accertiamo che questo sia il quiz attivo ok a questo punto vediamo un attimo se funziona quindi andiamo nella sezione quiz qui dice di cliccare qua per cominciare un nuovo attempt ma visto che non si può cliccare io ho fatto in modo tale credo che si clicchi qua ecco però non funziona anche la parte quiz con firestorm quindi questo lo metterò effettivamente necessiterà di essere messo a posto perché da questo errorino comunque come vedete la versione imprudence al momento ve la raccomando poi quando funzionerà anche questa versione voi potete cliccare qua per far partire la risposta e poi sempre fare come in imprudence agire diciamo sulle barre laterali ok quindi per il quiz hood per il momento è quasi tutto ora vediamo la prossima lezione se rifinire ancora qualcosina di queste parti oppure di farvi vedere dei quiz più semplici cioè che non necessitino di avere un sito web come però vedete il fatto di avere un sito web è comunque una cosa molto comoda perché permette di definire le cose da fuori senza dover tutte le volte impazzire dentro a costruire mettere i script e via discorrendo allora con questo direi che è tutto ci vediamo al prossimo video e alla prossima lezione